Sabato 30 maggio alle ore 19 presso il Museo Pestum nei percorsi del Grand Tour a Capaccio Capoluogo si conclude il ciclo di presentazioni Il Maggio dei Libri, promosso dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, un mese ricco di eventi culturali che sono stati realizzati presso la medesima sede La Gorà dei Liberi e la BCC di Capaccio Pestum organizzati dalla Proloco Silarus Pestum Porta del Cilento in collaborazione con il Comune di Capaccio, la Fondazione Gian Mattista Vico, il Rotary Pestum Centenario, La Gorà dei Liberi, Terracilento.com, L'UMPLI Salerno e la BCC di Capaccio Pestum. L'ultimo evento in programmazione è la presentazione di uno dei libri più letti in Italia ancora oggi, Viaggio in Italia 1786-1788 di Goethe. L'evento sarà introdotto dai saluti di Italo Voza, Sindaco di Capaccio, Vincenzo Pepe, Presidente della Fondazione Gian Mattista Vico, Vincenzo Patella, Presidente della Proloco Silarus Pestum, Vincenzo Patella, Presidente della Proloco Silarus Pestum Porta del Cilento e Daniela Di Bartolomeo, Direttore del Museo Pestum nei percorsi del Grand Tour.